va beh siamo in onda la sigla non vuol partire sperando che non parte va bene allora siamo in onda con Enzo Cattaruzzo ciao bene mi sei tu mi senti ecco bene allora buongiorno a tutti naturalmente i fatti del giorno sono questi dopo che la giunta del giornale proprio prese posizione molto chiara del presidente della regione federica dove dice no al progetto dell'acciaieria c'è comunque la posizione della Daniele molto importante perché dice una grande presione che porterebbe occupazione sembra quasi un rilancio al dialogo a rivedere un po le situazioni perché dice questo è un progetto che secondo il programma doveva durare insomma per il completamento 45 anni naturalmente la Daniele che è un grosso colosso industriale ha vinto anche un progetto negli Stati Uniti cioè in Austria mi sembra e comunque sia è un leader mondiale di questo questo sistema naturalmente invita pare con la lettera mandata alla commissione pari inviti in momentino al dialogo e alla alla ricomposizione naturalmente la presa in posizione viaria della ferrovia eccetera per cui insomma c'è questo dibattito che sta scemando ma io penso sia stato un rilancio importante ecco quindi naturalmente anche i sindacati eh dovranno prendere posizione ma nessuno ha visto il progetto il progetto c'era in sostanza eh questo 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 ehm progetto della multinazionale di Butrio è un progetto che rimane ancora sul tavolo nonostante la notizia insomma abbastanza certe la Daniele cercherebbe di trovare una posizione di questo tipo anche in altri siti perché è chiaro l'investimento è veramente importante che non può permettersi di eh abdicarlo ehm è chiaro anche che eh con questo invito eh si invita un po' tutti a vedere quello che è eh il futuro della regione insomma si dice che la Laguna non verrebbe non verrebbe inficciata insomma eh c'è un po' di chiarezza da fare in sostanza. Ecco c'è da capire come hai detto tu insomma come andrà poi nelle prossime nelle prossime nei prossimi giorni insomma nelle prossime settimane per quanto riguarda poi gli incontri no nella quarta nella seconda e quarta commissione e come hai già sottolineato ecco soprattutto da capire poi quale sarà la partecipazione se sarà diretta o indiretta da parte dei diretti interessati mi scuso per il gioco di parole però eh da quello che ho potuto un po' ascoltare dalle dalle tue dichiarazioni eh diciamo così si potrebbe si potrebbe aprire un altro spiraglio per quanto riguarda un'altra area su cui costruire questa questa acciaieria magari non nella zona della Laguna dell'Ausacorno ma individuando forse un altro un altro un'altra location no in un certo senso. Questo è chiaro il Presidente Vedrigato noi ascoltiamo il territorio per cui insomma è importante ehm una presupposizione molto netta dove si dice il territorio ha la fase diciamo così in mano la fase finale. Certamente la posizione della multinazionale è una posizione molto molto concreta dove offre alla regione un aumento di PIL offre un un aumento anche di un progresso veramente sociale di livello e naturalmente dovranno adesso adesso anche approfondire non solo anche le opposizioni dovranno approfondire perché adesso che c'è un un una specie di di sentenza tra virgolette dell'università eccetera eccetera dovranno anche prendere in mano questo progetto a vedere nei fatti che cosa c'è che cosa non c'è naturalmente il tempo corre bisogna vedere se adesso la Daniele avrà ancora la stessa intenzione nonostante la lettera che secondo me è una lettera molto importante che invita al dialogo bene io direi che per quanto riguarda l'argomento eh acciaieria possiamo chiudere qui anche perché sicuramente la prossima settimana Enzo ne avremo altre novità molto molto più eh ci sarà molta più carne al fuoco rispetto a quello che abbiamo sentito ultimamente insomma tira in molla quello che conta continua da una parte abbiamo capito che la regione non vuole portare avanti il progetto però la porta è sempre aperta non si chiude mai il portone adesso io direi di parlare un attimo anche delle questioni politiche e aprirei quello che potrebbe essere un camoroso colpo di scena no quello che Isabella De Monte saluta Calenda e Soci ed esce dal dal partito no? Beh la De Monte ha fatto secondo me una scelta molto pragmatica lei è stata una di quelle che aveva uscita dal PD qui e aveva dato fondato con calenda il il partito di azione no? Adesso lei dice io sono per me è un ritorno a casa torno con con Renzi probabilmente eh vede che Renzi eh è convinta che per le europee potrebbe in qualche modo fare qualche cosa e secondo me potrebbe essere anche lei una candidata alle europee visto che c'è già stata in Europa visto che ha eh maturato una certa esperienza e anche una una affidabilità e quindi insomma nonostante i mal di panza del suo partito dopo per esempio abbiamo scaricato che dice ma è una decisione inaccettabile se siete sbagliate insomma si sa benissimo che vanno queste cose non sono le scelte però è una è un primo riposizionamento che viene qui in Friuli io non escludo che non ce ne siano altre perché come possiamo dire tentiamo la carta europea però con azione c'è il rischio di rimanere con le pive nel sacco magari spostandosi verso Renzi c'è la possibilità di 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 arrivare insomma all'obiettivo diciamo un po' più centrista un po' più centrista ecco ecco poi c'è la vicenda diciamo così politica sempre di grado che insomma tiene tene banco no? Abbiamo visto che è intervenuto perfino il presidente della regione per vedere un po' meglio come stanno le cose ma l'attuale sindaco Kovac è molto fermo nelle sue nelle sue risoluzioni poi qui sappiamo che la vicenda di grado pare non sia ancora risolta ma sia stato solo un primo un primo confronto come vanno un po' su queste cose insomma no? Rizzetto oggi in un'intervista dice che questa vicenda non avrà delle ricadute sulla regione però da trocando dice anche che difende un po' la maggioranza ma dice che non dipende solo da lui e quindi dal dall'esponente massimo della regione del del partito di Fratelli d'Italia qui in regione ma dipende da una serie di fattori insomma no? Quindi vuol dire che ancora si sta sta trattando certo dobbiamo augurarci che il comune continui perché creando in qualsiasi comune ma per quando mi riguarda eh è giusto che il comune continui che non non cada di nuovo eh di nuovo come commissario tra parentesi senti io ho fatto una battuta a tempo nei giorni scorsi se permetti sul discorso di grado ho detto che mi ricorda un po' la situazione per quanto riguarda il compianto Zamparini quando era presidente delle varie società di calcio che ha gestito che era famoso per essere un mangio allenatori no? Grado è un po' una sorta di trittatutto dove negli ultimi quindici anni eh praticamente se la memoria non mi inganna ci sono stati almeno sette otto sindaci no? Poi oltre ai vari commissari che sono passati. Non solo ma l'attuale sindaco era commissario prima no? E comunque sia è un una persona di provata esperienza di grande capacità per cui insomma eh speriamo che il grado vada avanti e se no se ci saranno le votazioni il prossimo anno anno avremo anche lì ne vedremo delle belle insomma anche su grado vedremo le novità insomma insomma loro sono un po' abituati no? Passare dal centro-destra al centro-sinistra ogni due anni c'è il sindaco dura poco no? Perché giustamente grado è un paese di mare e il mare bisogna la laguna rischia di come si dice al giro lento no? Rispetto al mare aperto allora loro per non essere da meno dicono facciamo il giro veloce così anziché tenere una giunta cinque anni facciamo un cambio generazionale ogni due anni no? Poi alla fine la gente si lamenta che non succede nulla no? Di di frizione insomma da un movimento un po' come si dice la piazza. Chiaro. Senti andiamo invece a chiudere in bellezza per quanto riguarda gusti di frontiera abbiamo già proposto oggi ai nostri amici il servizio eh di inaugurazione che si è svolta si è svolta ieri pomeriggio eh alle diciassette in punto all'esterno del palazzo municipale abbiamo visto anzi ho visto perché ero presente eh parecchia gente soprattutto dopo le diciotto diciotto e trenta ad animare le vie di Gorizia approfittando del fatto di poter degustare assaporare per addetti ai lavori e non quelle che sono le predibatezze presenti in questa quattro giorni e abbiamo visto la giunta regionale presente al completo mancava solo l'assessore Anzile e l'assessore Scocci Marro ma per il resto erano tutti eh presenti con Fedriga chiaramente in prima battuta che ha anche lui fatto il suo intervento parlando insomma di queste importanti novità e soprattutto ha sottolineato che la regione da quando è arrivata da quando è arrivato lui al governo si conosce anche oltremestre mentre prima ci pensavano pensavano di essere che questa zona fosse una sorta di provincia dell'ex Jugoslavia ecco questa è stata un po' la premessa Bini ha sottolineato l'importanza del turismo c'era anche di piazza che ha lanciato in breve il passaggio di consegne tra gusti di frontiera e l'imminente Barcolana insomma un 2023 in movimento per quanto riguarda il turismo in Priuli Venezia Giulia con Gorizia insomma che si appresta ad assaggiare anche quello che sarà poi il vero appuntamento dal primo di gennaio del 2025 per quanto riguarda poi il progetto Go and Go capitale europea della cultura no insieme a Nova Gorizia? Beh certamente è un fatto non solo culturale ma politico molto importante perché non solo valorizza le diversità e guarda al 2025 ma da un metto un turbo alla regione nostra perché si è agganciata a questo non dimentichiamo che parte sempre da Nuova Gorizia noi ci siamo agganciati a Gorizia ma comunque con Gorizia ma abbiamo avuto Ziberna l'attuale sindaco che è stato molto molto intelligente a portare avanti questo progetto che darà sicuramente dei frutti e porterà a tutta la regione dei benefici non solo culturali ma anche in termini di denaro insomma di volano insomma e penso che Fedriga continuerà a credere nelle ricchezza del territorio proprio perché da Trieste tutto l'Izontino mi pare che adesso avrà una una grande attività perché in vista delle europee penso che la giunta regionale darà fondo a tutte le qualità che sappiamo. Senti eh differenze perché ogni tanto si si porta no sul tavolo queste cose differenze tra Friuli Doc e Gusti di Frontiera chiaramente sulla carta sembra la stessa cosa però poi in pratica sono due cose completamente diverse perché Friuli Doc dovrebbe in teoria essere la vetrina dei prodotti tipici della cosiddetta provincia del Friuli mentre dall'altra parte provincia di Friuli intesa l'area storica tanto per essere chiari in teoria è esclusa a Trieste mentre Gusti di Frontiera è un appuntamento dove un po' di tutto a 360 gradi si assaggia un po' di tutto ecco questa cosa importante non è la classica festa festa da 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 sagra allargata ecco no ma Gusti di Frontiera mette in evidenza un progetto molto ambizioso quello di allargare a tutti i cinque continenti no cioè mentre qui a Odin si cerca di fare i Friuli Doc e quindi di di fare un argomento diciamo sostanziale eh eh che diventa un po' anche eh oltre i confini qui invece i confini abbiamo già abbattuti e cerchiamo di attirare molto molto dei cinque continenti quindi dalle varie parti del mondo no ecco io credo che Friuli Doc insieme alla Barcolana insieme a Portano alle Legge e a Goizia eh Gusti di Frontiere dovrebbero in qualche modo fare un calendario che omogenezie un po' tutta la questione della della regione per dare un po' spazio a tutte le possibilità insomma no non è possibile in poco tempo sviluppare progetti di livello con risorse che sono sempre di meno volontariato si sa no è che sia dietro l'angolo e anche le imprese insomma eh possono foraggiare fino a un certo punto però io penso siano quattro quattro diciamo così punte di diamanti che potrebbe sviluppare certamente Friuli Doc deve fare anche molto di più molto di più anche dal punto di vista della comunicazione oltre la provincia di Udine e per esempio eh sbarcare un po' anche eh nei territori dimetrofi all'estero no quindi attirare oltre che all'Austria anche la Slovenia la Croazia il Veneto cioè aprirsi ecco in qualche modo aprirsi mantenendo non essere troppo autartici no ma mantenendo la propria struttura perché il Friuli eh tu sai benissimo che io sono per Friuli molto eh schierato ma però eh chiaro che bisogna anche aprirsi confrontarsi e sviluppare un po' questa tendenza insomma no anzi cerchiamo di di controbattere e di andare a conquistare il territorio con i nostri prodotti con un altro stile eh di vita che mi pare che sia tra i migliori un po' non solo in Italia ma anche in Europa chiaro senti Ezzo prima di concludere però facciamo una piccola retromarcia sulla politica perché domenica ci sarà questo appuntamento di Fratelli d'Italia in Villa Trigatti a Galleriano di Lestizza non so se qualcuno ti ha avvisato io l'ho saputo stanotte tanto per essere chiari perché ancora una volta dimostra e vi permetto di fare una critica nei confronti della dell'area comunicazione di Fratelli d'Italia perché cari miei se voi mandate le robe all'ultimo secondo non è che le redazioni giornalistiche in tempo zero vi possano garantire non solo la diffusione della notizia ma anche avere magari un inviato sul posto bisogna essere un po' più svegli e come si dice rispetto agli altri partiti se vogliono arrivare prima devono essere un po' più svegli ecco perché altrimenti si rischia veramente di eh poi si lamentano se non hanno la gente e la gente non sapeva niente di questa cosa dicevo tornando a noi invece dopo questa parentesi ci sarà questo evento con la partecipazione via streaming della stessa Giorgia Meloni che si collegherà all'interno di questa area ci saranno più dibattiti nel corso della mattinata e poi nel pomeriggio è previsto una sorta di tra parentesi eh comitato centrale provinciale di Fratelli d'Italia proprio lì a Villa Trigatti con gli iscritti per fare un po' il punto della situazione ecco al di là del fatto ti ripeto se tu lo sapevi questa cosa e cosa ne pensi insomma? No io non lo sapevo ma comunque lo sento da te in questo momento io penso che eh sarà sicuramente un un appuntamento molto importante perché se interviene la la premier quindi la leader del partito Fratelli d'Italia che il partito diciamo così in maggioranza relativa del paese è una cosa molto importante bisogna vedere se ci sarà probabilmente una ricomposizione tra le anime di Fratelli d'Italia come tu sai anche c'è una specie di di dibattito molto molto intenso tra Trieste Pordenone è utile si inserisce un po' anche lui e quindi eh anche sulla posizione di Rizzetto attuale presidente della Commissione del Lavoro della Camera che è un lavoro importante anche molto impegnativo e anche coordinatore regionale e Ciliani che è il ministro uno dei branci destri di 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 Giorgia Meloni quindi vedremo un momentino quale sarà eh il dibattito che è molto interessante non solo per la questione eh nazionale che insomma sappiamo che nelle mani della premia ma eh qui in regione un po' di chiarezza penso la debbano fare la faranno bene grazie eh beh gioco forza dovranno qualche maniera anche dare delle direttive no per quanto riguarda le imminenti elezioni regionali anzi pardon le amministrative nei vari comuni e poi soprattutto per quanto riguarda le elezioni europee ma come tu mi insegni tutto sì prego sta concludendo anche il congresso del PD e pare che i risultati siano imminenti no perché hanno votato tutti i circoli mi pare votano solo gli iscritti e pare che Leonardo Duzzi il sindaco di Ruda sia avvantaggiato ma bisogna dire pare condizionale d'obbligo perché dopo che abbiamo visto la debacle di di Bonaccini potremmo avere anche colpi di scena ma da quello che si sente insomma questo è ecco però ricordiamoci però che Bonaccini ha perso perché hanno votato anche gli esterni mentre quando hanno votato i circoli ha stravinto le primarie insomma questo è tutto ribaltato tutto rimescolato successivamente bene io direi che possiamo chiudere qui per quanto riguarda questa puntata di Mixed abbiamo fatto un po' un panorama generale per quanto riguarda quello che è accaduto l'ultima settimana in particolare in chiave politica aprendo una finestra anche alle iniziative che si stanno eh creando si stanno muovendo sul territorio in particolare gusti di frontiera per quanto riguarda Mixed è tutto vi diamo appuntamento come sempre stessa rete stessa ora tra sette giorni per una rianalisi di quello che è accaduto in Friuli Venezia Giulia negli ultimi sette numero e lettere giorni mandi e alla prossima alla prossima